Ma buonasera duellanti Guilford Porco E' tornato sul canale Guilford E chi dobbiamo ringraziare per questa cosa Bellissima Il nostro Felix Felix Siccome è un appassionato del canale Cioè lui sa Quanto è importante Guilford In questo canale di merda Però lui ancora non l'abbiamo evocato Cioè proprio A parte che non riusciamo a pescare nessun Guilford Puttana la madonna Quindi oggi Oggi mamma Konami Evochiamo Guilford Il fulmine, quello nuovo Ok Perché il mazzo costruito in questa maniera Perché Mr Felix come ben sapete Insomma Diciamo che con la testa tanto a posto Non è No a parte scherzi Allora lui ha detto Devi giocare nel deck Tre servo di custode di tombe E tre macrocosmo Cosa fanno queste carte Se attivate Sul terreno? Che cosa fanno? Cioè Per chi non lo sapesse Che cazzo ne so Poi non so neanche se Magari anche a me del ruling Che cazzo ne so Non lo so Servo di custode di tombe Che cosa fa? Il tuo avversario deve attaccare Mandando una carta Dalla cima del suo deck Al cimitero Se no non può attaccare Insomma Milla uno Mentre macrocosmo Come ben sappiamo Rimuove tutte le carte Che vengono mandate Dal terreno Dalla mano Dal deck Vanno tutte rimosse Quindi L'avversario Se c'è macrocosmo E servo del merda Non può attaccare Quindi che cosa fanno? Quante volte dico quindi Porco dio Che cosa fanno queste due carte? Fanno spade rivelatrici infinite Ok? Il avversario non può attaccare Secondo Mr. Felix Dice Che cosa Chi è che usa le spade In Yu-Gi-Oh I guerrieri Quindi Guildford Non aggira come ragionamento Se ci pensate Porco dio Allora Facciamo la deck list Domatore di mostri E allenatrice di mostri Questi sono Due tipi Che si sono beccati in discoteca Che cazzo sto dicendo Non lo so Allora Due capitano spadellatore Tre Orgot Tre Guildford Il fulmine Ragazzi oggi me lo sento Oggi Oggi lo caliamo Per favore Due Guildford Perché tre mi fa schifo Sta carta Già la odio Tre ragionando Una terraformare Due giare Una prosperità Tre mausoleo Vabbè Tre servitore Penetrare Guildford Cosa? Grande convergenza Che fa buco nero Se controlliamo Macrocosmo Solenni Tre solenni Poi rinascita di Parshot Skilldrain E Macrocosmo L'extra deck Come al solito Signori E A A parte A parte questo Che lo possiamo evocare Con rinascita di Parshot È totalmente A caso Guardate che è bella Allora Vi metto Il link In descrizione Del primo video Mai uscito Su questo canale No Aspetta che cazzo Si dice No Nel senso Il primo video Di Guildford La leggenda Perché magari Qualcuno è nuovo Dice Oh ma Guildford Che cazzo Che mi frega C'è tutta una lore Dietro E Felix Oggi L'ha rispolverata Allora Andiamo a fare Una bella partita Mamma Konami Mamma Konami Allora Peschiamo Servitore Macrocosmo Solenne Mausoleo E Killford Il fulmine Però Allora È facile Facilissimo Tutte carte in tre per Tutte Tutte carte in tre per L'iLabs L'iLabs Ci devi far far la combo Adesso voglio proprio vedere Perché io non l'ho ancora Oh l'ho pescato Lo sapevo L'ho pescato Cazzo L'ho pescato Porco Dio Si ma non mi devi mettere Tre in mano Adesso il gioco Veramente È agli antipodi Cioè Nell'altro video Che vi giuro Vi metto il link In descrizione Guardatelo Ragazzi Guardatelo Cioè In otto partite Non ho mai pescato Guildford La leggenda Non l'ho mai pescato Per calarlo Porco Adesso lo pesco Ovviamente è inutile Perché Guildford la leggenda Guildford il fulmine Porco Dio Come lo calo Devo pescare il masolo dell'imperatore Però abbiamo sfatato la cosa Che non pesco Guildford la leggenda Adesso siamo passati dal Ma possibile Ragazzi ma veramente Ma a parte A parte gli scherzi Che lo sappiamo perfettamente Che il Dispia Albaz È uno dei mazzi più usati È attualmente Attualmente Il miglior deck Di Yu-Gi-Oh! Master Duel È Tier 1 L'unico deck Tier 1 Che c'è sul gioco Cioè se secondo Yu-Gi-Oh! Master Duel meta Che insomma Quello Ne sa Di Ne sa Cioè non è che è una persona È un sito Che sca E porco Dio Avete capito Però non è possibile Che ogni volta che Registro un video Con un deck Del cazzo Come il Guildford Il porco Dio Di merda Cazzo è sta roba Ma perché Ma si gioca questa Per fare Per fare la cosa Non mi dire Fa la Come si chiama Ah ma questo Non è Albaz Questo è il vecchio deck Il vecchio deck Quello lì Fortissimo Come si chiama Il deck Il deck Come si chiama Dio porco Ma io posso attivare Non posso attivare in catena No domanda Se questa carta Vi ne evocate Fusione Utilizzando Come materiale Tutte le carte Porco Dio Ma avevo Warn Avevo Strike Perché non me l'ha fatta attivare Ah perché c'è Perduto Marchiato Ok perché c'è Perduto Marchiato Se le carte Non si gioca Madonna Scopata nel culo Di porco Di Cristo Maledetto Di merda Guarda un altro Guildford Sicuro Ecco adesso Lo piasco Il mosolo Dell'imperatore Gesù porco Di merda Gesù maiale Gesù bastardo Gesù un croce Di merda Allora Quella carta magia Continua Nelle liste Non si gioca Potevo vincere Potevo vincere Addirittura Perché facevo Warning Quello moriva Poi il turno dopo C'era ancora Macrocosmo Porco Dio Dio Porca madonna Dai con calma Dai con calma Zio porco Dai Fammi iniziare di nuovo Porco Dio Dai Guildford mi mette di cattivo umore Mi mette di cattivo umore Quindi per favore Mamma con la mia Mi metti contro un deck di merda Un deck del cazzo Di merda Mi fai pescare Mausoleo prima Oh però Mausoleo lo sto pescando Lo sapevo che oggi Era la rivalsa Del Guildford Me lo sentivo Che poi tra l'altro Cosa fa Orgot L'impalagabile Non l'ha anche spiegato La carta fortissima Clamorosa Che durante Il cazzo Dogmatica Dio porco È perfetto Ma non si gioca Nazione Dio Basta Ma porco di Dio Basta Ma perché Ma ogni cazzo di partita C'ho contro sto Ma faccio i video a oro Dio cane apposta Per non beccare sto mazzo E becco solo Albaz Ma porco Dio Ma porca la madonna Giusù di merda Stronzo Figlio di puttana Ma non è possibile Ma non esistono più I mazzi di merda Ma mi finisco contro Un numeron del cazzo Ma porco di Dio Ma madonna Di quella cagna Lurida Però Dai ma che parla Ma poi nazione dogmatica Ma che cazzo fa Nazione dogmatica Ma che cazzo vuoi Nessun giocatore Può andare a fanculo Nessun giocatore Ma porco Dio Ma muro È torcedo pure In drango Quaci Madonna troia Questo dovevo pescare Scusami Devo pescare Macrocosmo Porco Dio Macrocosmo era buono Era Però Ma però Aspera 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 No perché Macrocosmo Mausoleo Macrocosmo E grande convergenza Mica male Porca madonna Mi fa incazzare Guilford Dio cane Non l'ho calato apposta Perché così Continua la leggenda No vabbè L'ho calato Vabbè Cioè Vaffanculo La leggenda La leggenda di Guilford Porco Dio La leggenda Della madonna Che viene Nei piedi Che cosa Chi è che viene Nei piedi Allora Con calma Quindi non è Non è male La situazione Non è Non è una brutta situazione Perché Ma no Però il problema È la carta settata Se la carta settata È quella che No no Aspera Aspera Non è stata Non serve a un cazzo Lo so Io lo so Io lo so Allora Attivare mausoleo adesso Evocare gordo No perché Mi prendo Porco Dio Non batte il face Dio che ho sbagliato Mi prendo In faccia All'effetto dello specchio Porca madonna Quindi Direi proprio di no Allora Team Team Ok Non sto andando Team Ok Devo fare Attenzione Ad attivare Al momento giusto Macrocosmo Cioè Sta tutto là Sta tutto là Poi Orgot È un'altra di quelli Che ha una spada Guardate lì C'è una spada che Vabbè Chi se ne frega Aspetta No però aspetta 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 Nessun giocatore Sai zitto Nessun giocatore Può scegliere Come bersaglio I mossi Che controlli No non la voglio Continuare Vai Tocca a te Però Chi se ne frega Dopo il calcolo Dei danni Se questa carta Scoperta Che mi distrutta Può farmi andare Ma chi se ne frega Aspetta Zitti Zitti Perché Io che la grande Convergenza L'ho messa così Giusto per ridere Ho detto Fai buco nero Con macrocosmo Oh oh Però Ci può servire Adesso Ci può servire Aspetta Questo setta Uno Si può vincere Si può vincere Madonna puttana Poi se quella carta Se quella Aspetta Perché non l'ha messo in attacco Questo Cos'hai paura Cos'hai paura Di Di cosa Allora Adesso attivo Macrocosmo Sì Almeno che non ha Solenne Di ocane Ma solenne Dai Non sono mica io Che sto giocando Porco dio Macrocosmo Cosa vuoi Cosa vuoi Attivare Sul macrocosmo Aspetta No Aspetta No Forse dovevo farlo Dio porco No Dovevo farlo Ma No Vabbè Ma adesso me lo richiede No Eh infatti Ok Trovi nel battle step Allora io gli faccio fuori tutto Giusto Cioè gli faccio anche 300 danni Madonna Questo non ha potuto fare un cazzo Perché non può mandare al cimitero Sì sì Spacca tutti i mossi scoperti Certo certo Spaccali tutti Vai tranquillo End phase Dovrei pescare Dovrei pescare Magari un solennino O forse veramente Gilford Il figlio di puttana Servo Oh Allora Combo dio cane E la E ma Mamma mia Ragazzi Siamo proprio Siamo proprio Fortissimi Come diceva Checco Checco chi Siamo una squadra Fortissimi Allora Attivo Attivo Masoleo Stavo dicendo L'effetto di Orgot Non è neanche una così Una merdaccia Noi tiriamo tre dadi E se escono dei numeri uguali Cioè Per esempio 6 e 6 O 3 e 3 4 e 4 Attiamo degli effetti In base al A cosa c'è scritto Per esempio Se facciamo 1 o 2 Non può essere spaccato Fino alla fine Dovremmo fare 3 o 3 3 o 4 4 Sarebbe top Pesiamo due carte Probabilmente vinciamo la partita Perché Ah no 5 Dio porco No 6 Dio cane Beh è perso Non posso fare più niente Però diventa un 4200 Madonna inculata Perché si pompa di 100 Per ogni Per ogni cosa Che attiviamo Cioè Per ogni lancio Della moneta Cioè Lancio della moneta Do cazzo L'hai tirato fuori Porco Dio Si pompa di 100 Per ogni risultato Del dado Quindi abbiamo fatto 6 5 E 5 No A parte che Macrocosmo Effettivamente Ti rompe il culo Perché contro Alba Zdispia Macrocosmo Effettivamente Ti rompe il culo Cioè Proprio Te lo rompe Anale Te lo rompe Proprio Il culo Però 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 Voglio vedere Voglio vedere cosa Voglio vedere se Becco tre Dispia di fila Che poi quello lì Non era proprio Vabbè Quello era Alba Zdispia Signore No Quello che Quello è un mazzo Figo Allora Madonna Grande convergenza Ragionando Giudizio solenne Pure questa Amica è una mano brutta Questa qua Non è una mano brutta Se Se Però Peschiamo Macrocosmo Cioè Se peschiamo Macrocosmo Non è per niente Una brutta mano Poi ho messo Anche ragionando Perché è così Cacciatore Di mostri Cazzo Mancava proprio Macrocosmo Ragionando Sono due le cose Evoco Guilford Per forza O Capitano Spadellatore Orgot L'implacabile Dio cane Vedi Orgot L'implacabile Cento volte più forte Di Guilford La leggenda Cioè Ma stiamo scherzando Ma dove stiamo dando i numeri Facciamo Aspetta No due No dai Fai tre Tre Cazzo No Cinque Non mi serva niente Porco dio Eh niente Non riesco mai a fare dei numeri doppi Dio cane bastardo Porco di dio Ok fa niente Attiviamo Attiviamo Settiamo Anche Grande Convergenza Per far paura L'avversario E poi Attiviamo pure questa Così l'avversario dice No Questo c'ha un macrocosmo No cosa Potete tributare Per evocare Domatore di mostri Ma Non lo faccio No Perché dovrei farlo Orgot l'implacabile In teoria me lo stavo tenendo Tra virgolette Nascosto Che poi nascosto Da che cosa Non lo so Lo stavano tenendo Per il video Per il video Tema anime Questo Cos'è che spacca Spacca una carta Magia Trappola Vero Così mi spacchi Il servo del custode Non lo fare Ti prego No porco dio No Grande convergenza Però grande Così c'ho ancora Due solenni Belli Belli Tranquilli Porco dio L'ho chiamato Prima però Porco dio L'ho chiamato Prima Il gioco Porca madonna Ci ascolta E poi dici Che non siamo tracciati Porco dio Se siamo tracciati Dammi contro Numero Porco dio Albaz A numero Porca la madonna Porca Porca la madonna Senti Non attivare un'altra Per favore Ah ma Ma i prendi per il culo Porco dio Porco dio Però porca madonna Ma dammi l'altra Edio cane Allora Tim Fammi attivare l'effetto Di Orgot L'implacabile Vedi Orgot Ma veramente Ma In permanenza In permanenza Parco dio Quella stata In permanenza Sicuro Tim Per favore Mi fai Sto favore Ok Grazie Gentilissimo Settiamo un altro Custode Un altro Solenne Questo Ma solenne A tre Troppo forte Solenne A tre Troppo forte Sono d'accordo Allora Se nel prossimo turno Il tizio non fa Nukets E con Orgot Facciamo 5 5 5 Lo ticappiamo Perché va Si pompa Di 1500 Life points No neanche Lo ticappiamo Devo fare 6 6 6 E poi esce Il demone Che esce Porco dio Che esce Eh ragazzi Però Così Ma Così Come Porco dio Non mi puoi fare tre cose In un turno solo Però Dai Madonna Puttana Ma non me ne puoi fare tre Non puoi partire con due carte Dai Ma non è possibile Ma non è possibile Che la gente scula così Ma porco dio Un croce Ma porco dio Di merda Che poi neanche può fare la cosa Ma questo sarà furbo Come una faina Dio cane Farà il gigaclope Io il gigaclope Che gli racconto Porco dio Ragazzi Dai Entra in battle Ma muori No Scusa Tipi 2005 Questo bandi Ma pure quello Io mandavo Vedi Se avevo Macrocosmo Manco attaccavo Dio cane Di merda Madonna Puttana Che cazzo vuoi Cioè Hai rimozione in mano Ah C'è una merda Porco dio Ma che culo Ma sta gente Ma che scula così Ma siete imbarazzanti Porco dio Fate schifo Porca madonna Fate schifo Porco dio Fai schifo Tu tizio cinese Di merda Tizio cinese Di me Quanto era bello Se c'era macrocosmo Quanto era bello Se c'era macrocosmo Porca madonna Puttana Porca madonna Puttana A parte che l'ho chiesto io Numero Bravo coglione Magari se chiedevo Un mazzo di merda Peggio di quello Niente ragazzi Ci vediamo nel prossimo video Porco dio Gilford Non l'abbiamo calato Ma abbiamo scoperto Un nuovo mazzo da meta Orgot L'implacabile Al prossimo video Ragazzi Bella tu Gesù Maiale Pezzo di merda Ma porco dio Numero di merda Chi usa Numero Di Ocania Non ha le mani Non ho le mani